Musica Remo Sernagiotto, parlamentare europeo della Commissione per la Cultura e l'Istruzione, ha partecipato a Giobbe Orienta, il Salone Nazionale dell'Orientamento in Scena a Verona Fiere, anticipando alcune novità che interesseranno l'intera Europa. Io ringrazio il Presidente della Fiera che ha voluto incontrarmi, visto che in questo periodo noi stiamo preparando il bilancio 2021-2027 e stiamo ancora discutendo per investire ancora di più. A gennaio incontrerò tutti i miei colleghi della Commissione Cultura italiani, incontriremo la Presidente che è una tedesca, incontriremo il commissario. L'Europa ha deciso, ha capito per fortuna, che non è sulla costruzione di trattati fatti dall'establishment, come si dice, ma è nel muovere i giovani in Europa, quella che chiamiamo la generazione Erasmus. Ecco, questo è l'obiettivo e a gennaio comincerò a lavorare su questo impegno magari per i prossimi anni.